Ciao ragazzi sono Ceno Kakuna e bentornati dopo un sacco di tempo su Granny per una review sulla nuovissima versione della mod di Outwit dove sono state aggiunte un sacco di opzioni fighissime fra queste, la modifica della visuale e anche la possibilità di giocare come tutti i tipi di personaggi nel gioco Ma come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel like al video, iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno ai suoi nostri video detto questo cominciamo e partiamo con la prima hack di questa mod, già ne ho attività una la god mod per non farmi attaccare da Granny così per non perdere troppo tempo quella la possibilità di clonare i ragni e poi scusate ma c'è ancora il bug del ragno che ti si attacca ai piedi? da quello che so sono usciti più di 3 o 2 aggiornamenti fra l'anno scorso e quest'anno poi ci dovrebbe essere un'opzione che determina la grandezza del ragno, diminuirlo oppure aumentarla ma innanzitutto liberiamoci, ora impostiamo il tutto però osservando la posizione in cui sono spawnati uno sopra l'altro se noi ne spawniamo altri, nello stesso punto è possibile creare una torre di ragni ma penso che crasherebbe il gioco a causa del lag già che per forza devo lasciarli immobili insieme alla nonna non è possibile spawnarli in altri punti perché si andrebbero a attaccare ci dovrebbe essere un'opzione per levarseli lì in mezzo ah in low clip, quello di attraversare le pareti ok attiviamo il party mood per rendere un po' più allegra questa casa anche i ragni stessi condannati come se stessero ballando fino al resto della loro vita hanno aggiunto la visuale al contrario eh oddio, fa paura quasi, fa venire... metto un po' d'ansia ma guardate possiamo anche essere, possiamo diventare anche il ragno abbiamo l'opzione della bocca quindi per attaccare di poter spawnare ragnatele almeno posso costruire una casa, guardate però non credo si possano piazzare anche di sopra, peccato possiamo essere anche granny e come per il ragno avrà un menu delle sue funzionalità perciò attaccare col manganello di piazzare trappole c'è anche l'icona e... di poter dire le sue frasi più celebri come I see you where are you? è di nascondersi, anzi è di guardare sotto il letto c'è anche l'acque Freezy Granny che ci permette di congelarla non per forza con la trappola ma direttamente e anche per il corvo sì, possiamo giocare come lui abbiamo sempre due icone una quella in basso a destra per attaccare l'altra per rilasciare piume secondo me serve per mettere più casino in casa così almeno la granny starà a pulire fino agli ultimi giorni della sua vita ma attenzione non è finita qui c'è anche l'opzione per clonare il corvo e aumentarne o diminuirne la grandezza e anche in questo caso si sparano sullo stesso punto cioè è un bug o sono io che devo impostare qualche altra qualche altra hack specifica, impostazione, non lo so ma guardando il corvo sembra un animaletto sembra un corvo mutante che secondo me al posto di quel corvo semplice potevano aggiungere uno tipo questo dico, cioè hanno aggiunto un danno gigante e non potevano aggiungere un corvo con tre teste o con tre occhi quest'altra hack ci permette di regolare il FOV quindi lo diminuiamo oppure lo aumentiamo come in Minecraft l'ho messo a 99 e fa un effetto stranissimo successivamente c'è un menu dedicato agli NPC quindi in qualche modo si possono spawnare altre entità oltre quelle di default come bendy oppure balli che ancora non si possono muovere e fanno solamente delle animazioni così ma spero che in un futuro aggiornamento gli dino la funzione di farli camminare come tutti gli altri anche negli NPC avremo la possibilità di giocare come loro che nel caso di bendy è come se fossimo all'interno del suo corpo e balli che a caso della sua piattezza non si noterà tanto ritorno ai corvi vediamo se il bug si è sistemato avevo sbagliato io non avevo fatto più caso al puntatore mannaggia c'è chi arrazza l'incosciente che sono oddio ma a parte questo penso che il video può finire qui in descrizione troverete il link della mod perciò ciao alla prossima gente